Oggi proveremo un nuovo piatto si chiama spaghetto al wuster e se non te lo mangi Ma ti vedi non mi piace guarda si ma ti devi mangiare pure gli spaghetti No no devi mangiare tutto ma si mangia l'iviosse tutto devi mangiare Non è nusche mi guardi quello è Ma va a prendere Si tu sei proprio